Ho cominciato ad aiutare la ricerca quando nel mio condominio si è trasferito un milico. Siete benvenuti, piacere. È appena comprata. Pure io. Con lui ho imparato a rinunciare a tante cose. Come al sonno, per esempio. Io adesso vado a busarli. No, non è educazione. O ad un aereo, spesso. Calma, calma, vai con calma. Ma rinunciare al proprio posto auto... Questo è troppo, Mirko. Questo, mi dispiace... Ora, questo è il mio posto. Questo è il mio posto, Mirko. Adesso io metto la macchina qui. Guarda che chiami, Vigili. Io chiamo la ricerca contro la SMA, che dono un sacco di soldi. Così tu magari un giorno guarisci e te fai. Un giorno, grazie alla ricerca, Mirko potrà ricercare il suo posto auto come tutti noi. Regaliamoli questo sogno.